Ciao ragazzi, buonasera. Prima di andare a dormire volevo farvi un regalo. Volevo appunto regalarvi un video inedito del Grande Maestro, visto che qui non lo vedrete più perché il suo canale è stato completamente cancellato. Però io i vecchi ricordi ce li ho tutti e li conservo e li custodisco con tanto amore. Diciamo con il cuore. Ovviamente questo video risale a circa 4 anni o forse 5, quando il Grande Maestro era una persona gentile. Ve lo posso garantire, non era così. Vabbè, basta con le chiacchiere e vi auguro una buona visione e buonasera da tutti. Amico mio, guarda, sono andato a fare le lumache con tutta quell'acqua che ha fatto. Guarda com'è bella, ma non è questa. Guarda, un secchio pieno di lumache alla DAC. All'assù perché stanno cadendo pure per terra. Questa è una lumaca viva alla DAC. Giustamente questa qua so che deve morire. Questa so che deve morire, no? Ecco la quale si è alzata alla DAC e mangiata. Buono! Acute, please!